Ci sono due perizie sulla scrivania del sostituto procuratore della Repubblica di Sulmone, Edoardo Mariotti, per la morte di Antonio Di Lollo, il 46enne titolare di un'impresa di tinteggiatura, rimasto folgorato lo scorso 31 agosto mentre lavorava su un capannone di un'azienda di confetture sulla Statale 17 nel territorio comunale di Casteldisangro. Il PM dovrà avaliare in particolare la consulenza medico-legale, quella tecnica svolta sullo stato dei luoghi sul cestello elevatore che l'operaio aveva utilizzato per tinteggiare la facciata del capannone, urtando i cavi dell'alta tensione collocati a distanza ravvicinata, come era emerso sin dai primi accertamenti. La procura dovrà ora accertare se si ravvisano violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sono tre le persone indagate per omicidio colposo, FF, le sue iniziali proprietario del cantiere ed amministratore delegato della società di confetture DDA e GG, due tecnici legati al nolleggio del cestello elevatore.